La visione che Dio ha per te si adempierà sicuramente. Talvolta, nel nostro cammino cristiano, dobbiamo avere molta pazienza. La cosa confortante è sapere che questa virtù è molto spesso parte del piano di Dio. Vediamo cosa dice la Bibbia in proposito. Perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Abacuc 2.3. Dio ci avvisa. Ciò che lui ha pianificato per le nostre vite potrebbe impiegare del tempo per realizzarsi, ma si adempierà. Anche Mosè l'ha sperimentato. In Ebrei 11.27 leggiamo. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Altre traduzioni dicono che perseverò, fu persistente e continuò ad andare avanti. Se anche tu ti trovi in questo momento di attesa, continua a perseverare, rimani saldo. La visione sta tardando ad adempiersi? La manifestazione della promessa di Dio per te deve ancora rivelarsi? Continua a tenere il tuo sguardo fisso su Gesù. Quello che ti aiuterà a perseverare è rivolgere il tuo sguardo verso colui che è invisibile. Continua a guardare a Gesù anche quando tutto quello che c'è intorno a te ti porta a dubitare di Lui e del suo intervento nella tua vita. Oggi fai tu e queste affermazioni. Gesù si muove nell'invisibile. La visione si sta sviluppando. Per certo si realizzerà. Che il iva chuva. Ho. Ho. Grazie a tutti.